Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. Il pagamento del canone Rai all'interno della bolletta dell'energia elettrica rischia di trasformarsi nell'ennesima lotta tra cittadino e burocrazia, con la sbandierata semplificazione che ancora una volta viene dimenticata. Ernesto Boschiero, direttore della ConfCommercio di Vicenza, si fa portavoce dei tanti dubbi che in questi giorni accomunano chi è alle prese con la prossima scadenza relativa al canone Rai, quella del 30 aprile appena prorogata il 15 maggio, data entro la quale si dovrebbero comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali variazioni sull'applicazione della tassa. L'invito che parte dall'Associazione di Via Faccio è dunque quello di controllare bene la propria situazione e di farlo appunto prima possibile, perché in tutti i casi deve essere fatta comunicazione all'Agenzia delle Entrate con apposito modello telematico o tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta. Per esplicare queste formalità è operativo il CAF 50 e più presso la sede della ConfCommercio di Vicenza. Per informazioni comunque telefonare allo 0444 96 43 00. Ed ora parliamo delle convenzioni con gli aeroporti veneti e per il noleggio delle auto sottoscritte da ConfCommercio e delle quali possono usufruire gli associati. Sentiamo maggiori particolari da Manuela Rosa dell'Ufficio Marketing di ConfCommercio Vicenza. Per tutti coloro che per i loro spostamenti utilizzano l'aereo ricordiamo le convenzioni che ConfCommercio Vicenza ha sottoscritto con gli aeroporti veneti. Nello specifico con l'aeroporto Cattullo di Verona è possibile usufruire di uno sconto del 30% su tutte le aree parcheggio con esclusione delle soste brevi e low cost. Sono disponibili anche vantaggi aggiuntivi come per esempio check-in dedicati, corsie preferenziali per i controlli di sicurezza e l'accesso all'area business, l'area VIP, dove è possibile anche usufruire di un servizio di ristorazione in attesa della partenza del proprio volo. All'aeroporto Marco Polo di Venezia invece è possibile parcheggiare al Marco Polo Park 1 usufruendo dello sconto del 25%. Per usufruire di entrambe le agevolazioni è necessario richiedere le tessere agli aeroporti, pertanto suggerisco di contattare con congruo anticipo l'Ufficio Marketing di ConfCommercio che fornirà oltre all'apposito modulo per la richiesta anche tutte le informazioni necessarie. Rimanendo in tema di mobilità, una volta raggiunta la propria meta sia in Italia che all'estero, sicuramente può essere utile avere a disposizione una macchina, un'autovettura o un veicolo commerciale a noleggio. A questo proposito ConfCommercio ha sottoscritto particolari convenzioni con tre agenzie, Avis, Hertz e Maggiore. Sono disponibili sconti dedicati che vanno poi verificati anche in base alle offerte del momento e sono disponibili anche vantaggi aggiuntivi legati alle coperture assicurative o alla velocità di prenotazione. Consiglio comunque di contattare preventivamente l'Ufficio Marketing per avere i relativi codici di accesso. Tenuto conto che il noleggio a lungo termine spesso costituisce una valida alternativa alle pratiche amministrative e alle registrazioni per quanto riguarda i veicoli aziendali, ricordo che è disponibile un'ulteriore convenzione che ConfCommercio ha sottoscritto con l'agenzia LISIS. Qui è previsto un canone all inclusive con diverse coperture. Per i pubblici esercizi si avvicina la scadenza di pagamento dei diritti alla società consortile fonografici per la diffusione di musica in ambiente. Il termine ultimo per effettuare il pagamento è infatti il 31 maggio 2016. Grazie all'azione svolta da FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi di ConfCommercio, lo sconto riservato alle aziende associate è pari al 30% rispetto alle tariffe intere. Ricordiamo in tal senso che il servizio di riscossione dei compensi è curato da SIAE, società che ha inviato ai pubblici esercizi le richieste di pagamento con il sistema dei bollettini MAV. Le aziende che non li ricevessero entri i termini utili per il pagamento dovranno contattare direttamente l'ufficio SIAE competente per territorio. Come si diceva, l'SECF riconosce uno sconto ai nostri associati, ma per evitare qualsiasi inconveniente è necessario ottenere sempre i certificati di adesione a ConfCommercio a disposizione della società consortile fonografici e della SIAE, che ne potranno richiedere in qualsiasi momento l'invio o l'esibizione. Chi ne fosse sprovvisto può contattare gli uffici dell'associazione al 96 43 00. L'asparago bianco di Bassano DOP come non si era mai visto in cucina prima d'ora. Potremmo sintetizzare così il laboratorio di ricerca e sperimentazione promosso dall'Università del Gusto su questo grande prodotto del territorio, che ha vissuto la sua fase conclusiva nei giorni scorsi all'Università del Gusto, la struttura formativa food di ConfCommercio Vicenza. La giornata di studio ha visto protagonisti una decina di chef della provincia ai quali è stato presentato il lavoro svolto. A guidare il laboratorio è il professor Davide Cassi, fondatore e direttore del Laboratorio di Fisica Gastronomica dell'Università di Parma. Al suo fianco lo chef Marco Perez, docente dell'Università del Gusto e del Master della Cucina Italiana. Noi dovevamo introdurre tecniche moderne e scientifiche per valorizzare un prodotto del territorio tradizionale, che era questo asparago bianco. Quindi siamo partiti dai ragionamenti che stavano alla base delle nostre sperimentazioni, cioè qual era la specificità di questo asparago rispetto agli altri. La specificità sta nel colore senza altro e poi nell'aroma e nel sapore che sono particolari e delicati, senza quel gusto amarogno e forte che hanno gli asparagi più scuri. Per valorizzare qualche aspetto bisogna molto spesso sacrificarne altri. Abbiamo deciso di sacrificare la struttura e la consistenza per valorizzare aromi e sapore e anche colore. La tecnica che si è rivelata migliore è stata quella della creomacinazione, che utilizza l'azoto liquido per ottenere delle polvere finissime di vegetale crudo. L'asparago con le lunghe cotture perde moltissimo i suoi aromi. Anche un infuso, un bordo d'asparago, se viene costo poco più di 5 minuti comincia a perdere, mentre con l'azoto liquido riusciamo a bloccare gli aromi del prodotto fresco. Lavorando sempre con questa farina di asparagi diventa estremamente versatile. Partendo da una preparazione base iniziale siamo riusciti a creare una decina di ricette per poi poterle usare sempre in maniera molto diversa. Un modo per ampliare la proprio visuale e soprattutto in cucina, anche con metodi innovativi come può essere l'azoto, che nonostante avesse già avuto modo di manipolarlo, però vederlo così applicato ad una materia prima che è proprio nel mio territorio ti fa vedere qualcosa di innovativo. In cucina siamo abituati a lavorare con il caldo perché i forni arrivano anche più di 300, ma con il freddo è una cosa nuova perché arrivavamo fino a 40 gradi. Il fatto di arrivare a quasi meno di 200 ci fa scoprire tante nuove possibilità di lavoro, di utilizzo e con l'asparago logicamente in questo periodo potrebbe essere molto molto interessante. Fantastico, un'apertura mentale incredibile. Noi trattiamo l'asparago da sempre ma è un'altra cosa, un'altra visione, per cui non da abbandonare la vecchia strada ma da integrare con nuove tecniche per migliorare il sapore in cucina. Il 2 maggio prende il via Barbarano Vicentino la lotteria di primavera alla quale partecipano 29 negozi e pubblici esercizi. L'estrazione si terrà il 21 giugno prossimo. In paglio numerosi premi tra cui primo premio buono spesa da 1000 euro, secondo premio buono spesa da 500 euro e terzo premio buono spesa da 300 euro. Appena preso il via Villaga la sesta edizione della rassegna enogastronomica Bisi ed Intorni per valorizzare i Bisi di Pozzolo prodotto d'Eco. Ce ne parla Barbara Zanellato, ristoratrice locale che partecipa con altri ristoranti al mese dedicato al legume primaverile di produzione locale. E' iniziata anche quest'anno la stagione dei pigelli, i nostri pigelli dell'altopiano di Pozzolo che insieme ai nostri coltivatori ci danno la possibilità di proporre i nostri piatti anche nei diversi ristoranti della zona. E' un prodotto molto versatile e si può utilizzare sia nei primi piatti, come contorno, nei secondi e anche persino sui dolci. I Bisi di Pozzolo ovviamente coltivati in loco. Ancora prima che iniziassimo a fare queste rassegne era molto sviluppata la coltivazione dei pigelli a Pozzolo anche perché il terreno, le posizioni al sole danno la possibilità di coltivare bene questo prodotto. E danno l'opportunità a noi di usare i pigelli Bisi di Pozzolo a chilometro zero per dare spunto alla nostra fantasia, proponendo dei piatti nuovi ogni edizione. Ed ora la formazione. ESAC Formazione propone dall'11 al 25 maggio, in orario serale, cinque incontri dedicati alle tecniche di vendita e fidelizzazione del cliente. L'Università del Gusto propone invece l'11 maggio il corso con il maestro panificatore Emanuele Varotto dedicato al lievito madre per conoscerne le caratteristiche ed utilizzarlo. Il 12 maggio serata dedicata al pesce e ai crostacei con idee veloci e creative dello chef Gianluca Tomasi. Infine il 18 maggio corso dedicato alle torte classiche con il maestro Denis Dianin. Ed ora l'agenda. Lunedì alle 20.30 assemblea della delegazione comunale di Altavilla Vicentina. Mercoledì alle 15 incontro HACCP Allergeni, energia elettrica e gas metano del mandamento di 90 Vicentina e Barbarano Vicentino. Sempre alle 15 assemblea della 50 e più. Per quanto riguarda questo appuntamento con ConfCommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Arrivederci e buona settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.